Il tetto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto con l'arnia assassina. E nove. Poi tolgo tutti i coperchi. E vai con lo sciroppo. Pronti. Chiudere. Non pungetemi che mi sto dando da mangiare. Se mi pungi non ti do più da mangiare. Guarda queste. Quante siete lì? Queste mangiano poco. Non capisco come mai. Centrato? No, non è centrato però. Per questo mangiano poco. Ecco. Fine. Ecco qua. Fatto. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. due buon appetito ciao ragazze mangiate e fate tanto miele